Questo video è realizzato grazie al programma EA Creator Network Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in un nuovissimo video dedicato a questa fantastica espansione che è The Sims 4 Colpo di Fulmine Allora, se avete visto l'episodio precedente saprete che tra il nostro Liam e Margot sta andando tutto veramente veramente alla grande vi invito ad andare a vedere l'episodio precedente perché io vi giuro non me lo aspettavo proprio e devo dire che la cosa si sta concretizzando sempre di più nonostante ci sia ancora a livello di attrazione un'indifferenza ma stranamente c'è una forte soddisfazione in realtà da entrambe le parti perché l'abbiamo visto selezionando entrambi e ragazzi sono profondamente legati tra i due sembra che vada tutto veramente a gonfie vele e poiché abbiamo già fatto due appuntamenti e lo scorso episodio è stato veramente pregno di avvenimenti da questo punto di vista abbiamo visto come si usa la coperta romantica il gioco quello lì fatti avanti eccetera un po' di cosine ma abbiamo raggiunto in entrambi il livello argento questa volta ho detto basta poiché la nostra Margot tra i compiti da svolgere per la sua aspirazione a andare a tre appuntamenti con un sim partner quindi dobbiamo essere suo partner ora che ce l'abbiamo ho deciso di chiamare un altro appuntamento e lo stanno facendo proprio a casa ragazzi ah guardate dove me lo mette il cosino di pietra che abbiamo visto nel costrucci compra molto carino quindi adesso non ci resta che concludere questo appuntamento che ho mandato avanti appunto senza di voi perché così ho fatto un po' di interazioni senza replicare cose che avevamo già visto volta scorsa ma vi ricorderete anche che per i nostri due appuntamenti a livello argento avevamo ricevuto il cofanetto delle coccole una volta le fragole al cioccolato una volta i fichi canditi quindi io adesso ve lo faccio vedere innanzitutto queste qui sono le fragole no vabbè ragazzi io impazzisco e questi altri sono i fichi quindi ora tra l'altro mi hanno regalato anche dei vazzoletti non so se forse per piangere sul latte versato ma vado a prendere questo e lo vado a mettere a lei e vado a prendere questo e lo vado a mettere a lui nell'inventario quindi ce lo ritroviamo esattamente qui ricordiamoci che lei ha nell'inventario anche una foto di lui che lui ci ha dato dobbiamo farci però delle foto insieme allora visto che dobbiamo usare interazioni affettuose e mangiare qualcosa io spero di poter unire l'utile al dilettevole e uh chiede la consulenza di cupido le informazioni utili sull'amore tra l'altro ragazzi anche su questo lui doveva guardare il cavanale tv tenenovela per due ore gliel'ho fatto fare quindi va al lavoro tra due ore vediamo un attimino ma attenzione perché ora vado su affetto condividi il cofanetto delle coccole siiii andiamo subito ah ok allora mettiamo lavora da casa again fai una ricerca sulle forme di intimità per due ore dai mangiatevi sta cosa in brevissimo tempo così possiamo fare mangia qualcosa e anche usa interazioni affittuose oh mio dio Daniela Alberghini che bello grazie pensavo voleva mettere zizzania o forse veramente vuole mettere zizzania sta maledetta ti piace? no ragazzi io li adoro ok allora interazioni affittuose non me l'ha ancora sbloccato mannaggia l'oro vediamo se condividi fichi canditi mannaggia mannaggia parla del cibo vediamo parla del cibo appetitoso ragazzi devono muoversi ho fatto veramente questa volta molto molto veloce speravo di riuscire scusatemi ma si è sbloccato non avevo visto la medaglia d'oro si siete adorabili yeah ragazzi premio guadagnato wow è stato un appuntamento un appuntamento oggi non riesco a parlare un appuntamento leggennario il tuo sim ha davvero fatto favile nel inventario del tuo sim è presente un regalo per aiutarti a ricordare lo sprendito rico incontro prova a personalizzare la descrizione con interazione dai un nome ritratto di ricordi preziosi ragazzi appuntamento straordinario dopo quell'appuntamento li ama fatica a contenere il proprio entusiasmo non vede l'ora di parlarne lei è un po' impazzita di parlare ad altri sim per magnificare la propria straordinaria prese la propria straordinaria esperienza scusate tra l'altro soddisfazione piacevole per i fichi fichi lei però ragazzi allora veramente è un idillio quello che stanno vivendo uno di sette oh cacchio però dicevo c'è sempre qualcosa di strano che ha leggato questa coppia ragazzi allora uno di sette appuntamenti assurdi per aver accettato la sfida dei sette appuntamenti assurdi aiuto margot ha scelto ma l'ero quasi dimenticato perché nello scorso video abbiamo ricevuto questa proposta l'abbiamo accettata margot deve totalizzare almeno un appuntamento perfetto entro la scadenza dello stato umorale per andare avanti a quanto pare ci sono delle telecamere nascoste ma margot non si accorge di nulla no ragazzi non ci sto credendo un altro appuntamento dovrei fare vabbè lo dovrei fare in in separata sede da voi perché non è che vi faccio vedere centomila appuntamenti ma attenzione incontro imbarazzante si lui gradisce la forma fisica anzi lo faremo andare in palestra brevissimo fa una ricerca sulle forme di intimità e questo mi sa che dobbiamo farlo a computer si e ascoltare la stazione amorosa per un'ora ok glielo faccio un attimo fare questa roba allora ragazzi vorrei approfittare del computer e anche dello stereo che ho messo qui perché innanzitutto vado ad accendere così la musica la attiviamo accendi musica ha altre scelte dovrebbe essere amorosa credo che sia romantica e ovviamente adesso lei si è messa al computer ma andiamo con lui uh il quartiere andiamo su internet ricerca e qui abbiamo fai una ricerca sulle forme di intimità non mi ero accorta ragazzi che forse non è un simbolo di Sailor Moon ma sono tube di falloppio non so comunque è il simbolo del suo lavoro quindi vado a cliccarci su ma se continuiamo su ehm internet abbiamo anche cerca consigli sugli idilli summer vorrebbe venire da te allora io dico di sì ragazzi perché secondo me questa vuole litigare malamente invitiamo anche il vicino ad entrare entrate tutti quanti maledetti cerca con ferme sul fatto di essere un buon partito lei comunque un po' strana ripeto un po' strana discuti delle relazioni sane vaglielo a dire a summer che già si sta avvicinando a lui summer tu oggi prendi le botte io te lo dico discussioni urla contro ma proprio senza ombra di dubbio allora lui dicevamo fai una ricerca devi farla per due ore ricerca ok ecco sei una maledetta summer hai capito io lo so che cosa vuoi fare con lui mi dispiace non te lo permetterò hai capito tra l'altro rendi felice un altro sim ok ma voglio anche rendere triste lei relazione chiedete l'attrazione chiedi se è singolo io dovrei proprio chiederle ragazzi altri sim accoppia con ecco allora facciamo così accoppiamolo con Carlos guarda veramente un ottimo partito io te lo suggerisco Carlos sembra un buon partito mi presenterò appena lo vedo oddio non mi hanno d'accordo non è andata troppo bene non credo che usciremo ancora insieme no raga l'angolo di cupido non è andato a buon fine cioè io sono l'angolo di cupido comunque volevo dirvi visto che appunto siamo al computer che approfitto anche per farvi vedere un altro paio di cose allora qui potete anche andare ad aprire all'angolo di cupido che ancora non abbiamo visto quindi a brevissimo lo apriremo ma lo apriremo dal cellulare così vi faccio vedere l'app in realtà è uguale anche da internet e poi attenzione perché abbiamo anche la possibilità adesso di andare su ordina e vedere acquista il cofanetto delle coccole ebbene si ragazzi abbiamo una serie di opzioni costano tutte 150 e abbiamo bucconcini di frittelle fighi canditi fiocchi di popcorn fragole al cioccolato mochi pan dulze profiterol e tartufi al cioccolato io impazzisco vorrei tutto sinceramente devo dire che mi sono contenuta e abbiamo anche sfruttato risparmiando un po' di soldi abbiamo sfruttato le scatole che c'erano uscite proprio dagli appuntamenti quindi secondo me va benissimo così oh attenzione scusatemi a sto punto io me la prendo cioè sul personale vorrei apparare lui con qualcuno altre scelte altri sim ah denigriamo denigriamo sparliamo di summer sì 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 oh mio dio e là non ci conosciamo ma vedendoti in lontananza ho chiesto a un amico il tuo numero spero che non ti dispiace è solo che proprio un'attrazione irresistibile verso di te giuro di essere una persona tranquilla ti andrebbe di incontrarmi allora ragazzi lei in questo momento è totalmente presa e affascinata da Liam ma sapete anche che è una persona instabile e io credo che lei voglia con tutte le sue forze cercare la come dire di essere riconosciuta come persona affascinante piaciuta eccetera quindi piacente e anche piaciuta quindi io direi che senza che lui se ne accorga senza che Liam se ne accorga io direi affascinante ma certo oh mio dio oh magnifico mi metto la giacca e vengo subito da te a tra poco no no non devi venire qui oh mio dio sim ammiratore segreto un sim ammira segretamente Margot sta arrivando possibile che sia il sim dei sogni di Margot oh mio dio pugnalato da un sim amico alle spalle Margot si sente in colpa per aver sparlato di un amico veramente sparlato di una nemica che razza di comportamento è questo Margot e Ilia hanno una solita raga ma non ci sto credendo cosa no ragazzi non ci sto credendo è iniziata una soddisfazione romantica ma ma giovane adulto Ilia no raga non ci credo ma come forte soddisfazione forte attrazione i sim sono più attratti da sim con attributi corrispondenti alle loro pulsioni oh mio dio ma quali sono le sue pulsioni pulsioni ironia zelo vitalità ambizione ah repulsioni pessimismo passione degli animali abitudini caotiche beh oddio io spiccato intelletto mancanza di ambizione cioè non non gli piacciono quindi io non ho spiccato intelletto mi sta dicendo sono stolta pulsioni performance no ragazzi non ci sto credendo ma poi davanti a cosa ma è terribile ne parlerò certamente con Summer sono d'accordo Summer non è questo granché proprio niente di speciale raga io non ce la posso fare cioè praticamente mi state dicendo allora in effetti però chiedite la soddisfazione romantica vediamo secondo me questo modo di Margot di mettere alla prova la relazione trovo la nostra relazione molto soddisfacente ma ci siamo conosciuti letteralmente oggi vediamo un attimino allora aspettate ah ma io lo vado a chiedere dell'attrazione fisica perché secondo me lei è presa un po' dal fatto che Liam non abbia detto esplicitamente che è molto attratto da me quindi lei si sente un pochettino no allora disavventura ah no ok pensavo fosse per lei l'amaggiatura di Sim era innegabile ma purtroppo non è mai sbocciato ok l'aspetto non è tutto però caratteristiche fisiche capelli arancioni rossi turchesi siedemola modaiolo boh vabbè no io volevo sapere l'attrazione nei miei confronti caro caro o cara poi non so perché mi sembra che proviamo a complimentarci per l'aspetto anche perché ragazzi vi ricorderete che nei confini romantici a Liam non dava fastidio niente fin quando non si faceva fighi quindi in teoria io potrei anche baciarlo comunque dicevo condividi il cofanetto delle oh mio dio mangio il cofanetto delle coccole davanti a Liam si mettiamo alla prova la nostra relazione ragazzi oh mio dio che cosa gli sta chiedendo ah ok vedete lui è ha dei tratti un po' femminili e allo stesso tempo anche lo smalto mi gusta ragazzi allora Liam è lì ci rendiamo conto oh mio dio non mi dite che lui sta col telefono in mano perché vuole andare si sta arrabbiando e vuole andare su Cupido lì come si chiama l'angolo di Cupido oh dio no vabbè raga Elia ci sta guardando lui sta facendo finta di niente io non lo so a quale gioco stai giocando Margo io te lo dico ma secondo me stai giocando veramente col fuoco onestamente perché lui adesso sta facendo finta di niente e qualcosa mi dice che si sta agitando alquanto te lo voglio dire vediamo se lo bacio fatti avanti vediamo alla fine di sto coso ma è infinito secondo voi il cofanetto perché non riesco a capire se finisce o non finisce cioè tipo ah ok non ce l'ho più ritratto di ricordi preziosi non l'avevo preso no raga oh mio dio legno scuro questo è il ricordo del nostro appuntamento oddio mi sento male scusatemi allora proviamo un attimo a scattare una foto con Elia cioè perché questo evento me lo devo ricordare oh mio dio ma perché sto andando al piano di sopra con lui ah no ok lui doveva fare soltanto la pupù comunque dicevo amici io inizio a sospettare che la cosa si sta facendo veramente pericolosa perché pensateci lei vuole conferme perché dice siamo andati avanti un bel po' hanno fatto tanto di quel fighi che io veramente non ve lo so dire quindi sospetto che lei voglia delle certezze da Liam ma Liam allo stesso tempo credo che non ne stia cioè non stia facendo mistero del suo affetto il problema è che lei forse vuole tutto e subito non saprei oddio come si guardano sti due io non lo so no ragazzi il flash c'è credo di sì no non ci posso credere cioè hanno gli stessi atteggiamenti che avevano vabbè un po' di come dire vabbè non ce la faccio potrei stare qui ore e ore ecco esatto questi siete voi quando Liam poi alla fine non scherzerà più ve lo dico comunque l'attrazione io non come dire non do torto ad Elia ve lo dico ma io non escludo che Liam ce lo metterà a quel servizio attenzione comunque dovremmo ascoltare la stazione amorosa per un'ora quindi vieni qui e vieni ad ascoltare ascolta romantica anche perché manca veramente poco a soddisfare anche questo oh mio dio ragazzi mi ha riconosciuto che anche gli altri due appuntamenti erano stati svolti con il sim partner lei si adora si annusa le ascelle nel frattempo ve lo dico ma quindi questo vuol dire che a lei rimane soltanto ottenere almeno due partner e quindi io adesso potrei chiedere anche a lui oh dio discutite la felicità nella relazione raga non ci credo lui ancora non se n'è andato ah tra l'altro non vi ho detto che sia Margot che Liam hanno raggiunto il livello 3 sempre in movimento ah questo sarà ok quindi hanno raggiunto il livello 3 di come si dice corteggiamento e quindi possono sussurrare i desideri ad altri sim tipo per esempio sussurra i desideri però io adesso vorrei anche il primo bacio tra di loro come vi dicevo Liam ha detto che lui molto soddisfacente che lui non è geloso se non si parla di fichi fichi quindi io voglio vedere lei sta tirando la corda tantissimo ragazzi quindi vediamo chi deve diventare il sim partner romantico mamma mia ragazzi cioè qui stiamo completando la pietra miliare sì oddio non ci credo abbiamo terminato l'aspirazione di Margot ragazzi aspirazione completata ebbene sì Margot ha trovato una felicità duratura con i propri sim partner e ha realizzato oddio ma questa è una relazione apertissima di essere felice in diverse relazioni ma chi cavolo me lo doveva dire ragazzi molto soddisfatti della loro relazione chi me lo doveva dire che alla fine sarebbe stata lei quella un po' così e infatti obbliga per il tratto instabile ragazzi miei reciproca soddisfazione si sente alla grande sapendo che il sim partner nutre i sentimenti simili ai suoi io te lo dico Margot adesso non mi prendo responsabilità di quello che accadrà te lo dico te lo dico proprio puro e semplice tra l'altro c'è ancora un proponire nozze che chissà chissà che cosa potrebbe succedere qualora uno dei due chiedesse facesse la proposta di matrimonio attenzione ragazzi perché qui mi dice che al momento la loro dinamica amorosa è sana che tenerezza Margot e Liam sembrano avere cura l'uno dell'altro sia come amici che come amanti i partner romantici dalla dinamica amorosa sana scelgono di seguire più spesso interazioni romantiche amichevoli o buffe l'uno con l'altro e occupano un posto speciale l'uno nel cuore dell'altro definire si sana la dinamica tra Margot e Liam allora allora non parlerei proprio di sanità a livello mentale perché vedo che c'è un po' di sfasamento ma al momento in effetti si prendono cura l'uno dell'altro certo Margot si è trovata anche un altro fidanzato io potrei definire alcune situazioni tossiche però al momento direi accettiamo questa dinamica e anche se sono incantevoli ragazzi vi faccio notare che a parte non so sensazioni buone conviviale bla 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 vi faccio notare che lui ha soddisfatto anche ascoltare la stazione amorosa per un'ora quindi devo dire assolutamente perfetto abbiamo qui una situazione sana eccoci qua allora io piccioncini lo andrei a togliere ragazzi perché tanto ormai abbiamo raggiunto l'abbiamo addirittura superato quindi vado su rimuovi l'etichetta della relazione personalizzata e quindi in teoria dovrebbe essere esatto anime gemelle un cuore e due sim partner e sana tutto questo con indifferenza le attrazioni e repulsione e repulsione forse è il caso di approfondire raga non lo so cosa succederà allora ragazzi poiché la situazione si è resa nuovamente imbarazzante il nostro Liam vuole ristabilire un attimo l'equilibrio e sta è andata ad acquistare il cofanetto delle coccole questa volta con delle stupende frittelline almeno bocconcini di frittelle e questo anche per soddisfare l'ultimo step della sua aspirazione o meglio della sua pietra miliare io sono sconvolta dalla velocità con cui abbiamo risolto la pietra miliare di Margot e aumenterà nel corso del tempo perché sono molto soddisfatti della loro relazione ma allora forse è proprio quello che volevano loro allora forse Liam si sente quasi come dire meglio ora che ha visto che anche Margot ragazzi guardate ora che ha visto che anche Margot ha trovato qualcuno cioè Margot lo sta facendo per fare ingelosire Liam Liam invece sta prendendo la palla al balzo per trovarsi seconde o terze ragazze con cui copulare ma allo stesso tempo la situazione è in un equilibrio a dir poco precario ed instabile ma ce la fate a condividere sto coso? io veramente non lo so vediamo se me lo dà sì questa volta quindi parliamo di pietra miliare ragazzi la prima pietra miliare l'abbiamo fatta adesso discutite i confini romantici ottieni un sim partner romantico ma sono io consegui livello 4 di corteggiamento e stringi tre volte ok io credo che il secondo ce l'abbiamo già chiedi di fare fichi fichi nel motello ci dobbiamo andare allora andiamo a discutere e infatti avete visto andiamo a discutere scopri dettagli chiedi di confini romantici no cacchio vabbè devo parlare di confini romantici con qualcun altro scusatemi io vorrei concludere questo episodio andando chiedi di lavorare sulla dinamica amorosa andando a chiedere la consulenza di cupido abbiamo abbastanza soldi perché secondo me nella testolina di Liam vuole comunque che la situazione sia chiara cioè ok della serie guarda che alla fine anche se stai con quell'altro e lo stai facendo per ingelosirmi a me sta bene sta situazione a te sta bene per scoprirlo andiamo da uno psicologo quindi tra l'altro ragazzi adoro che qui c'è un ventilatore e andiamo a vedere quando torneranno che cosa quali saranno i verdetti dell'esperto uh già ora iniziamo da te Liam chiudi gli occhi e guarda dentro di te oggi quali sensazioni senti per badere il tuo corpo mi sento flirtante è davvero bello sapere che ti senti bene lascia che i sentimenti ti scivolino addosso come lo sciroppo sulle frittelle la pasta spugnosa della tua relazione può assorbire la positività cremosa garantendoti anni di felicità deliziosa ma cosa vuoi dirmi raggiunto il livello 4 si di corteggiamento quindi ah no questo è di Margot puoi seguire ballo seducente Margot tu come ti senti allora non mi lamento ragazzi io direi non mi lamento se il tuo amore è un amore meglio così è importante tenere sotto controllo la nostra interiorità faremmo con una come faremmo con una cassetta postale diventa una cassetta postale Margot io non ce la posso pare non ha assolutamente senso comunque bacio tenerlo sul collo anche possiamo fare finalmente spero che anche il nostro Liam iniziamo ad andare alla radice dei vostri problemi quali state affrontando nella vostra relazione oh mio dio ragazzi sto impazzendo questa è la mia cosa prefe della vita cioè allora quali problemi siamo ah no quali state affrontando eh sì quali problemi soddisfazione romantica dinamica amorosa relazione romantica io direi eh relazione romantica ragazzi vorreste migliorare la vostra relazione romantica nel suo complesso sì questo lo sta dicendo Margot ovviamente perché vi ripeto ahm a Liam sta bene che lui vada con qualcun altro ahm Liam stavo pensando di cambiare lavoro sì va bene uh sfogatevi a vicenda oh mio dio ragazzi è finito il tempo ah no che paura il tempo non basta mai per i nostri sentimenti sembra che la nostra relazione sia impantanata da chissà quanto sfogatevi a vicenda rifoderiamo gli artigli in questa conversazione non c'è bisogno di arrabbiarsi se non sarete proprio capaci di dialogare dovrò mettervi in castigo a riflettere su ciò che avete fatto raga qua i nodi stanno venendo al pettine cacchio dovrei provarci cosa sta succedendo con questa relazione ora cosa sta succedendo sana partner oh mio dio infatuata margot oh mamma beh la seduta di terapia non è andata proprio come speravo voi due ne avete risposto da fare vi suggerirei di continuare con i nostri appuntamenti una volta alla settimana almeno per un po' oh oddio io direi lo faremo ragazzi bene avrò una settimana fitta di appuntamenti ma continuo a sentire la segreteria e ti farà sapere quando riusciremo a trovarti un po' sicino la segretaria giustamente io ho detto la segreteria terapia truffaldina la sessione terapeutica è stata una truffa vera e propria che spreco di simoleon oddio allora dovevo rispondere in quel modo serve altra terapia la sessione terapeutica non è andata come aveva previsto Liam l'unica prescrizione è proseguire la terapia no raga non ci posso credere guardate quanto è diversa la loro visione del mondo Margot non accetta quello che è stato detto ovvero il fatto che probabilmente la situazione è un po' complicata e gliel'ha cercato di far capire anche Liam della serie a Liam va bene la situazione così come ma Margot la capita veramente ha capito che Liam vuole una relazione aperta così che lui possa andare a fare fichi fichi ovunque io credo di no lei però si è trovata nel frattempo zitta zitta un amante quindi in tutto ciò è stata lei quella che ha agito più di lui quindi che cavolo vuoi i problemi ci sono e come non li state cacciando alla luce del sole ragazzi ma lei dice che il terapista è un truffaldino lui invece dice mi sa mi sa che ci serve altra terapia bene ragazzi con questa bellissima notizia come avete potuto notare abbiamo fatto un bel po' di passi avanti anche con le aspirazioni detto ciò ragazzi non mi resta che lasciare la parola a voi fatemi sapere che cosa ne pensate di loro due come coppia a me era partita una ship clamorosa ma adesso mi rendo conto che sta prendendo una strada un po' complicata e tortuosa quindi aspetto i vostri commenti e se siete arrivati fino a questo punto del video lasciatemi oltre al vostro commento anche la parola truffaldino perché in effetti mi è rimasta molto molto impressa e rappresenta benissimo la situazione al momento e ovviamente se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su noi ci vediamo nella prossima puntata di The Sims 4 colpo di fulmine un bacio a tutti e ciao